Benvenuti, vediamo come realizzare un podcast con Anchor FM. Come prima cosa dobbiamo digitare sulla barra di un qualsiasi motore di ricerca Anchor FM e questo è il primo risultato che ci viene restituito, Anchor the easiest way to make a podcast, il modo più semplice di realizzare un podcast. Ci clicchiamo sopra, su Microsoft Edge abbiamo la possibilità di tradurre la pagina in italiano con la funzionalità traduci. Questa è la home page di Anchor, se non siamo ancora registrati al sito dobbiamo cliccare qua in alto su introduzione, creiamo quindi il nostro account, una volta registrati ci basterà cliccare qua in alto a destra su accedi per accedere con il nostro account, possiamo facilmente accedere anche con i nostri account social, in questo caso io utilizzerò il mio account google. Una volta effettuato l'accesso veniamo quindi rimandati alla nostra dashboard dove abbiamo subito un link alla pagina principale dei nostri podcast e la presentazione delle funzionalità principali di Anchor FM. Se clicchiamo invece su episodi veniamo rimandati alla pagina dei nostri episodi, da qui possiamo facilmente, se clicchiamo qua su questi tre puntini a destra, possiamo facilmente visualizzare i dettagli dell'episodio, copiare il link oppure scaricare l'episodio sul nostro dispositivo. Per creare un nuovo episodio invece ci basterà cliccare qua in alto a destra sul nuovo episodio. Questa è la pagina di lavoro, possiamo facilmente registrare i nostri audio, possiamo riutilizzare degli audio caricati in precedenza nella library, possiamo anche pubblicare insieme ai nostri podcast i messaggi dei nostri ascoltatori. Infatti una volta che il nostro podcast viene pubblicato, gli ascoltatori hanno la possibilità di aggiungere dei messaggi vocali, saremo noi poi eventualmente ad approvare questi messaggi vocali e condividerli poi insieme ai nostri podcast. Possiamo poi aggiungere delle transizioni, ovvero degli effetti sonori per aprire e chiudere i nostri podcast o da inserire tra un podcast e l'altro. Realizzare il podcast è molto semplice. Una volta che infatti abbiamo creato le nostre risorse non dobbiamo far altro che trascinarle poi sulla parte destra della pagina per salvare il nostro episodio prima di pubblicarlo. Facciamo un esempio, iniziamo per esempio registrando un audio. Clicco quindi qua su registrazione, do il consenso per l'utilizzo del microfono e clicco qua su inizio subito a registrare. Benvenuti, questa è una registrazione di prova per mostrare come funziona Anchor FM, uno strumento per realizzare facilmente podcast. Interrompo quindi la presentazione e il mio podcast viene elaborato da Anchor. Una volta realizzato il mio audio posso facilmente aggiungere anche una musica di sottofondo, semplicemente cliccando qui dove c'è questa nota musicale. Posso sceglierla e filtrarla per categoria. Scegliamo per esempio elettronico, ancoraggi di distanza. Posso ascoltare un'anteprima della musica che ho scelto. E se è di mio gradimento selezionarla e quindi cliccare su Applica. Viene quindi elaborato ancora il mio podcast. Una volta terminata l'elaborazione mi basterà cliccare qua sul segno più per aggiungerlo all'episodio. Io posso aggiungere tutti i file audio che voglio e come visto posso aggiungere anche delle transizioni. Se infatti vado a cliccare qui a sinistra nell'ultima sezione, quella dedicata alle transizioni, mi viene data la possibilità di scegliere degli effetti sonori. Effetti sonori che posso utilizzare per aprire o chiudere i miei podcast o anche come transizione tra un file audio e l'altro. Anche in questo caso posso ascoltare un'anteprima e per aggiungerlo al mio episodio mi basterà cliccare su questo segno più e automaticamente ecco che il file viene riportato nella parte destra della pagina. Posso volendo anche cambiare l'ordine degli elementi utilizzando le funzioni di trascinamento. Posso poi visualizzare, anzi ascoltare in questo caso un'anteprima del mio episodio cliccando qua su anteprima. Benvenuti, questa è una registrazione di prova per mostrare come funziona Anchor FM, uno strumento per realizzare facilmente podcast. Bene, il mio podcast è stato praticamente creato. Come avete notato la realizzazione è molto semplice e intuitiva. A questo punto quindi clicco qua in alto su salva episodio, do un titolo al mio episodio che in questo caso sarà un episodio di prova, inserisco una descrizione di prova e poi ancora posso anche decidere di programmare la pubblicazione, posso cambiare la copertina, posso inserire altri metadati come per esempio la stagione, il numero dell'episodio, la tipologia di episodio e la tipologia di contenuto. Una volta inserite tutte le informazioni, posso sia salvarlo come bozza oppure pubblicarlo cliccando qua in alto su pubblica ora. Una volta pubblicato lo posso facilmente condividere sui miei canali social o eventualmente sul mio blog WordPress ma posso anche condividerlo successivamente. Veniamo quindi rimandati alla nostra dashboard cliccando qua in alto su cruscotto. Anchor FM creerà in automatico una pagina web per tutti i nostri podcast, una sorta di sito personale. Per vederlo ci basterà cliccare qua su visualizza il sito pubblico. Veniamo quindi rimandati alla pagina dei nostri podcast e se poi vado qui a cliccare in alto a destra su setting e clicco qua su distribution ho ulteriori opzioni di pubblicazione per i miei podcast. Queste opzioni mi permettono di collegare la pagina web con le mie registrazioni a diverse piattaforme. Posso per esempio creare un feed RSS per collegare la mia pagina web a un eventuale blog realizzato con WordPress o con Wix. Posso ancora utilizzare il permalink, posso utilizzare dei link specifici per collegare la mia pagina web ad Apple Podcast, a Google Podcast, a Spotify e ad altre piattaforme note. Come vedete Anchor FM è quindi uno strumento molto semplice da utilizzare, accessibile a tutti e quindi inclusivo, che ci permetterà di realizzare degli interessanti artefatti digitali semplicemente utilizzando la nostra voce.